Dovrebbe accadere che il governo e il Parlamento possano nei prossimi anni fare delle scelte. In modo particolare è necessario passare dallo strumento del bando, che è uno strumento occasionale, che non incrocia assolutamente la velocità del cambiamento economico e demografico del nostro Paese, allo strumento invece del piano, che implica invece un pensiero, implica un'idea anche sul tema soprattutto delle periferie delle nostre città. In modo particolare è necessario utilizzare i dati per definire delle aree di intervento, i dati quelli dell'Istat ma anche i dati degli operatori economici ed è assolutamente importante che ci sia anche una cabina di regia che abbia delle capacità anche dal punto di vista legislativo di coordinamento di intervento, io credo delimitati alle grandi città metropolitane di questo Paese, proprio perché non possiamo innescare una dispersione di risorse. Abbiamo incontrato un'Italia minore, un'Italia di serie B, un'Italia dove molto spesso lo Stato ha fatto un passo indietro, quartieri interi che sono governati da situazioni di illegalità o da criminalità organizzata, dove i servizi sono assolutamente di scarsissima qualità. Ed è un'Italia minore che coinvolge alcuni milioni di italiani e penso che di questo le istituzioni debbano chiedere scusa, debbano anche scandalizzarsi e vada proprio ripensata da qui anche la rinascita del Paese.